Ebbene sì, inizia un nuovo capitolo del nostro percorso su FIFA 23 qui su YouTube. Andiamo ad accettare la domanda del Leicester. Approdiamo in Premier League dopo la nostra carriera con il Pisa. Accetto offerta, conferma la firma di Mr. Mattex. Andiamo al Leicester. Eccoci qua, Mr. Mattex a prode in Premier League all'Eicester City. Siamo ufficialmente all'Eicester City, nuovo progetto qui su FIFA 23. Proseguiamo quello che è il save della carriera natore con il Pisa che si è chiuso con la finale di Champions League. Mi raccomando, vi invito a recuperare quel video e tutta la carriera. Nel caso riusciate, la trovate ovviamente sul canale, nella playlist. Vi lascio anche in alto a destra. Adesso però, nuova esperienza. Andiamo al Leicester, torniamo in Premier League dopo la nostra esperienza davvero tanto tempo fa al Watford. Obiettivi e aspettative della dirigenza. Abbiamo crescita giovani, basso. In realtà nessun obiettivo particolare. Fama del brand, nessun obiettivo. Successo continentale, nessun obiettivo. Anche perché mi pare che il Leicester non abbia particolari coppe. Qualificati per l'Europa League come obiettivo di campionato. E raggiungi le semifinali con l'Emirates e FA Cup. Finanze, assolutamente nulla. Quindi in realtà gli obiettivi sono più focalizzati proprio sui risultati veri e propri. Sul resto, più o meno. Più o meno. Relazione sul vivaio. C'è questo Kuipers? Sembra un animale. Sembra un anima. Soto, forse con un cambio di ruolo, magari qualcosina in più potrebbe farlo. Anzi esterno, esterno. Ah, è abbastanza velocino. Poi abbiamo Aguiar. Anche qui, 57. Buon potenziale perché è abbastanza altino. Però attualmente, secondo me, non è proprio nel suo ruolo. Vediamo se riusciamo a fargli cambiare qualcosa. Magari come attaccante centrale. E basta. Kuipers, molto carino come giocatore. Molto, molto, molto carino. Bello veloce. 4-3 come stelline. Io quasi che lo sposterei sulla sinistra per un discorso che, dando un'occhiata alla formazione che c'era inizialmente dell'Eister, non aveva tanti esterni sinistri. Quindi proviamolo per adesso sulla fascia. Vediamo. Sembra bello, golosetto. Tra l'altro, anche la faccia. Ha abbassato il capo. E anche la faccia abbastanza realistica per quanto possa esserlo di un giocatore creato dal gioco. E adesso è il momento che più aspettavo da quando abbiamo chiuso la carriera con il Pisa. Ossia di andare a controllare la brosa dell'Eister per procedere con la creazione della squadra che sarà. Abbiamo Schwabe tra i portini. Abbiamo 3. Schwabe, 80 di overall, 32 anni. Valore, circa 10 milioni. Vediamo. Iversen, 78 di overall. 29 anni. E Castils, 35 anni, 85 di overall. Iversen, lo terrei. Forse andrei a cedere Schwabe. Sul fronte terzini siamo un po' carenti perché abbiamo Mikolenko come terzino sinistro e basta. Solamente lui, però non è in scadenza. Sembra davvero un gran bel giocatore. 83 di overall. Non credo che possa crescere più di tanto, però comunque è il super titolare di questo Leister. Quindi sulla fascia sinistra in realtà siamo coperti per l'11 titolare. Ci servirà sicuramente una riserva. Difensori centrali. Abbiamo questo Luis Brandt che andiamo a mettere sul mercato senza troppi problemi. Mavropanos, molto carino come difensore. E poi Toanzebe, 78 di overall. Anche lui in scadenza, 29 anni, quindi già lì però. E poi questo Xavier Paul. 79 di overall, 21 anni. 21 anni. Questo è un bel, bel talentino. Questo è un bel talentino. Attualmente qua mi dà poca crescita, però possiamo svilupparlo magari facendolo giocare tanto. Rico Lewis come terzino destro. Anche qui un po' scoperti. Solamente lui. Qui andrei forse a comprare un titolare. Magari da affiancare a Lewis per alternarli. Ma sul discorso centrocampisti abbiamo il, buon caro e vecchio, abbastanza, 29 anni. Manuel Locatelli, 86 di overall. Super titolare di questo Leicester. Non andrei a smuovere forse. Se riusciamo a portarlo CC senza troppi problemi. Esatto, CC. Così almeno manterrei il nostro 4-2-3-1. Perché ci siamo trovati molto bene. Perché abbiamo preso ritmo con questo modulo. Non andrei a stravolgere. L'altro centrocampista è Yusuf Fofana. Molto, molto forte. Anche questo in scadenza. 28 anni. 84 di overall. Qui stesso discorso. Forse lui un pochettino meno CC. Poi abbiamo Dewsbury Hall. 80 di overall. 28 anni. Poi abbiamo Kefren. Turam. Forse la punta di diamante di questo centrocampo del Leicester. 85 di overall. 26 anni. 58 milioni di valore. Poi ancora centrocampo abbiamo Fabian Ruiz. 31 anni. 85 di overall. In scadenza. Però lo andrei a rinnovare ragazzi. Lo andrei a rinnovare. Abbiamo ancora Brae Brook. 75 di overall. 23 anni. Può crescere. E poi sulla tre quarti abbiamo questo Dueng Chitawan. Sulla faccia destra siamo più che coperti con Gonzalo Plato. 86 di overall. 26 anni. Possiamo dire praticamente lui il titolare credo. Poi Farkas. 72 di overall. 23 anni. Baena. 82 di overall. 25 anni. Molto carino. Poi abbiamo De La Vega. 82 di overall. Con il cappello. Ve lo faccio vedere perché è veramente fantastico. Con il cappello che va di moda in questi tempi. Tra l'altro sembra un po' Logan Paul. Sembra un po' Logan Paul per chi segue. O forse più suo fratello. Comunque per chi segue il wrestling e YouTube più in generale. Ha presente questo personaggio. De La Vega. Molto molto interessante come giocatore. Potrebbe quasi essere lui l'esterno sinistro. Più che Baena. Ma non lo so. Pensiamoci. Pensiamoci. L'attacco in realtà è il reparto in cui siamo più coperti attualmente. Attualmente perché abbiamo Amin Ghiri. 86 di overall. 27 anni. Anche lui in scadenza. Quindi c'è questo discorso di rinnovare tanti giocatori. Perché su me prima di fare calcio mercato. Almeno quelli che sappiamo che su cui vogliamo investire. Su cui vogliamo credere. Di andarli a rinnovare. Assolutamente. Perché non possiamo avere il rischio di perderli a meno. A zero. Eccetera eccetera. Poi abbiamo Kalimu Endo. 82 di overall. 25 anni. Anche lui molto interessante. Tra l'altro entrambi attaccanti della Francia. Che sta giocando all'europeo Under 21. Masuanise. 74 di overall. Dello Zimbabwe. Poi abbiamo Buxa. 75 di overall. 24 anni. E Dong. 75 di overall. 22 anni. Questa è la formazione a cui ho pensato per il Leicester. Castils tra i pali. Mavropanos. Paul. Lewis. Mikolenko in difesa. Fofanalo. Categlia a centrocampo. Baena. Attualmente sulla tre quarti. Della Vega sulla sinistra. Plata sulla destra. E Ghiri davanti. Il budget comunque ci permetterà un buon calcio mercato alla fine. Perché abbiamo 107 milioni. Con ancora qualche cessione da fare. Con i rinnovi però da programmare per i nostri contratti. Perché tanti giocatori secondo me. Col contratto in scadenza magari potrebbero dire. Ehi. Magari ci non andiamo. Magari andiamo via. Quindi. Per adesso non vorrei troppo pensarci. Andiamo invece a pensare ai giocatori. Che potrebbero inserirsi in questa squadra. Che ci sono degli acquisti secondo me. Che potrebbero essere carini. Uno anche un po' meme. Però se riesce. Ebbene. C'è ancora il buon stadio. Ma ne tra gli svincolati. Come esterno a sinistro. Marley a che? Marley a che sull'esterno a sinistro? Pah. Nei Marigno. Nei Marigno sulla fascia a sinistra. Però. Però no. Non lo andrei a prendere. Ce lo metto tra i preferiti. Però. La nostra lista preferiti. Prevede già qualche giocatore. Tra l'altro c'è anche qualche giocatore del Pisa. Non potevo. Non metterne qualcuno alla lista preferiti. Ovviamente andremo a prenderne magari uno o due al massimo. Nel senso non voglio andare a rifare un Pisa in Premier League praticamente. Abbiamo Costa tra i pali. Che potrebbe essere secondo me un bel portiere. Alle spalle di Calseels. Magari ad alternarsi loro due. Provando a cedere sia Iversen a questo punto che Schwabe. Ma vediamo. Terzino destro. Ho trovato Atal. Tra gli svincolati i 31 anni. Poi Maguire. In difesa ragazzi. Grande ritorno all'Eister. Per tornare brillante. Per tornare a vincere. Però. Non lo so. Vediamo. Comunque costa 7 milioni. Potremmo pensarci. Abbiamo il buon percorso. 29 milioni. Potrebbero richiedere l'Alerta Berlino. 82 di overhaul. 27 anni. E soprattutto il big della difesa sarebbe Wesley. Fofana. 86 di overhaul. 26 anni. Costo circa 70 milioni. Potrebbe essere secondo me il colpo da 90 per la nostra squadra. Perché serve un difensore centrale forte. Serve un difensore su cui far affidamento. E lui potrebbe essere la coppia perfetta con Mavropanos. Terzino sinistro. Ho trovato il buon Luke Shaw. Sì. 31 anni. Però svincolato. Potrebbe fare secondo me da spalla Mikolenko. Senza tocchi problemi. Tra gli svincolati ho anche trovato il buon Sadio Manet. Non lo so. Non lo so. Manet posso pensarci. 80 di overhaul. 35 anni. Dopo essere andato al Bayern. Magari vuole tornare in Premier League. Si è trovato bene con Liverpool. Però magari non vuole qualcosa di iper competitivo. All'Eister potrebbe solo trovare quello che cerca. Poi abbiamo il buon Ademola Lukman. E il ritorno di Ademola Lukman all'Eister per rinascere. Solo tre quarti. Non poteva mancare il buon Maurito Junior. L'uomo della Champions League. L'uomo della finale di Champions League. 83 di overhaul. 28 anni. Insomma lui potrebbe essere tranquillamente il nostro tre quartista titolare. Ma vediamo. Nel senso che la mia idea potrebbe essere anche quella di prendere uno tra Rodriguez 79 di overhaul 20 anni. Oppure Suzuki 78 di overhaul 18 anni. Su cui in realtà al Pisa non abbiamo più investito tantissimo. Nel senso che nel momento in cui è comparso Rodriguez ci siamo focalizzati su di lui. Però con Baena che potrebbe essere lì sulla tre quarti. Magari un Rodriguez o un Suzuki potrebbero essere carini anche. Poi abbiamo il buon Gellert. L'ho messo così. Ma non penso verrà anche perché in attacco siamo abbastanza a posto. Marley Ake tra gli svincolati. Anche qui ex Juve. Molto 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 forte. Mi pare 77. Qualcosa del genere. Poi Ryan Kent. Anche qui alla sinistra. Però lui già 30 anni. 35 anni. Il buon Neymar. E c'è anche il buon Jonathan Pratz. Seguito più volte col Pisa. 78 di overhaul 27 anni. E a proposito di Pisa. Okerec e Brun Larsen. 55.000 degli accetti. Mi sembra una offerta equa. Molto bene. Castils rinnova. Tra i primi che rinnova. Bene. 150.000 e 100.000 gli accetti. Mi sembra una offerta equa. Molto bene. Molto 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 bene. Secondo me andare a rinnovare. Pagare un pochettino meno qualche giocatore. Potrebbe essere la chiave anche per il calciomercato. Ghiri prende 160.000. 180 di bonus. Ci puoi stare. Mi sembra una offerta equa. Bravo Ghiri. 105.000 li puoi accettare. Secondo me. Bravissimo. Bravissimo. Tra l'altro il nostro budget. Facendo questi rinnovi di contratti. Andando a spremere un po' sul budget settimanale. Siamo arrivati a 113 milioni. Quindi 6 milioni in più. Male. Non male. Offerta per Baena. Ci darebbero Adelaide. Però Adelaide non ce ne facciamo niente. E ci non ce ne facciamo assolutamente nulla. Fanno me di tutta la squadra dove ho venuto una formazione di Leicester. Grazie. Grazie Mavropanos. Grazie mille. Doppia offerta. Questa volta interessante. Perché c'è quella per Schwabe. Quella per Mavropanos. Però la rifiuterei. Nel senso che essendo attualmente il capitano dell'Eister. Non andrei a vendere. Schwabe. Possiamo chiedere un pochettino di più. 15 milioni per il buon Schwabe. Ci puoi stare. Benissimo. Bravo Lione. Altra offerta per Mavropanos. Questa volta dall'Atletico. Ma anche qui rifiutiamo. Il Monza vuole Della Vega. Però ragazzi. Allora. Della Vega è un giocatore di quelli che ho voluto sempre provare. Ma non ho mai avuto. Diciamo. La scintilla per andare a comprarlo. Perché tanti. Appunto. C'è una che sarebbe stato un giocatore scontato. Eccetera. Essendo che ce lo troviamo in squadra. Voglio provarlo. Voglio assolutamente provarlo. Quindi rifiutiamo. Ci saluta il buon Schwabe. Che va bene venduto. Offerta per il prestito di Baybrook. Boom. Baybrook. Al Valencia. Un anno. Offerta per Fofanada la Lazio. Rifiamo. Assolutamente. D'accordo per il prestito di Baybrook. Io per adesso lo accetterei onestamente ragazzi. Perché secondo me troverebbe poco spazio nel nostro. Nel nostro Reister. Vediamo. Magari un annetto di prestito può fargli. Può fargli bene. Offerta per Baena. Dal Monza. Voglio provarlo a trequartista però. Voglio assolutamente provarlo a trequartista. Interesse per Maurito. E' offerta anche perché Fran Turam. 72 milioni dall'Inter. Ma lì andiamo a rifiutare Turam. Un giocatore incredibile. Cambio di ruolo per Locatelli. Che passa a Cicci. Va bene. Più che altro perché così. Teniamo un po' arretrati. E intanto fa 87. Fa più uno di overall. L'altro per Miovera. Investiamo un pochettino anche qui. Perché tra l'altro. Nelle ultime stagioni con il buon Pisa. Non l'abbiamo più fatto. Nove mesi in Inghilterra. A cercare talenti nostrani. E poi. E poi qualche investimento qui lo farei. Cameron Lewis. Ad esempio. E ultimo. Ma non ultimo. Questo Arsim Malai. Allora. Cameron Lewis. Lo mandiamo a scoprire l'America. Negli Stati Uniti. Ma cerchiamo qualsiasi. Per questi primi tre mesi farei qualsiasi. Malai. Lo manderei. Lo manderei. Lo mandiamo in Patria. Che dite? Tre mesi in Patria. Poi vediamo. Vediamo che succede. Così non lo spostiamo troppo dal suo range. E intanto. Magari qualche. Un talentino albanese esce fuori. Braybrook. Esce fuori. Braybrook. Se ne va. Al Valencia. In prestito un annetto. In Spagna. Così. Un pochettino al caldo. Si riprende. E vediamo cosa. Cosa ne esce fuori. Ma che cresce. Vedo già le zampe della premia sui nostri giocatori. I ghiri. Allo United. 88 milioni. Questa è veramente grossa come offerta. Però attualmente rifiuto ragazzi. Non voglio smantare la squadra. Prima ancora di provarla. Prima ancora di provarla. Offerta anche dal Chelsea. Per il buon Gonzalo Plata. Offerta per Brandt. 2 milioni e 2. Io accetterei anche onestamente. Altra offerta per Joyce Brandt. Questa volta 2 milioni e 3. Anche qui. Accettiamo. Tanto non è uno dei giocatori. Dei quei giocatori su cui andremo a investire. Su cui faremo affidamento. Altre due offerte per i nostri buoni giocatori. Tanawatt. Lo chiameremo Tanawatt. Per semplificarci la vita. All'Argentinos Junior. Volentieri. Della Vega al Wolverhampton. Anche no. Tanti ti prego. Magari se ne va nell'altra. Che costa un po' di più magari. Offerta anche per Turam. Dalla Roma. Sempre dall'Italia. Ma sono quei perni. Che non andrei a toccare. Nonostante in realtà sarebbe abbastanza realistico cederli. Per un discorso che. Il Leicester è arrivato a decimo. Non a coppe. Invece tante squadre magari sì. Però la squadra vuole fare affidamento su Mr. Mattax. Quindi vediamo. Vediamo. Andiamo dunque in campo per la nostra prima parida con il Leicester. Voglio provare un po' il modulo. Voglio provare i nostri giocatori. Capire se Baena potrebbe essere il nostro trequartista. Della Vega il nostro esterno sinistro. Eccetera eccetera. Abbiamo anche il buon Iversen tra i pali. Per capire se lui. Può essere il nostro secondo portiere di rimpiazzo attualmente. E non andare a investire su quel ruolo. Oppure se serve magari anche solo un Costa. Magari tarifiato a Castils. Così. Da farlo crescere sempre di più. Per farlo diventare il nostro portierone titolare. Proviamo qualche giocatore anche dalla panchina. Vediamo come sarà questa squadra. Speriamo di fare una buona impressione alla dirigenza. Leicester contro Alnasar. Primo match. Proviamo la squadra. Scendono in campo i nostri. Prima impressione per Mr. Mattax. Tra l'altro. Chiamando la cupa inviti perché prima di accettare l'incarico ho accettato il torneo precampionato con il Pisa. Andando a pescare quello qui. Fosse presente anche il Leicester. Andiamo in campo con le Foxes. Buona partita. Primo match nostro. Vediamo. La squadra. Però così tanto bisogno di ristrutturazione. Oppure serviva anche solo una ventata nuova e qualche acquisto. Plazza a Baena. In profondità per Ghiri. Deve saltare il difensore. Ci riesce. Ghiri. Che gol. Leicester 1 al Nasdrelo. La palla passa. 1 a 1. Segniamo al run. Questa parte qua della difesa. Sicuramente ha bisogno di migliorie. Vai Plata. Gonzalito Plata. Gonzalito Plata. Tutto da solo. Plata. Fa il 2 a 1. Subito così. E Leicester passa il primo avvantaggio. Tuffiato il pallone a Plata. Viana. Attenzione poi Mavropanos. Iversen non interviene. 2 a 2. Il match va avanti così. Attenzione. La palla ancora Marran. 2 a 3. Vabbè. Poteva essere veramente titolare. Perché Iversen non ne sta prendendo uno ragazzi. Iversen. Ciao. Arrivederci. Pofana. Della Vega. Ghiri. Aspetta Della Vega. Vai Della Vega. Vai che sei da solo Della Vega. Vai che sei da solo Della Vega. Per i tra tre. Della Vega. Che contropiede. Che contropiede del Messi biondo. Oh l'ho detto. L'ho detto. L'ho detto. Aspetta. Baena. Ghiri. Baena. Locatelli. Fofana. La chiama. Prova il destro. Fofana. Bono. Poi Plata. Fuori. Palla in mezzo. Castils. La prima partita. Di Castils. Con Mr. Mattox. Si rivela forse interessante per la sua carriera. Un risvolto positivo. Palla in mezzo. Fuori. Calimendo Della Vega. In mezzo. Turam anche dall'altra parte. Baena. Visto. Servito Baena. Turam. Bono. Aiaiaia. Passa. Poi sì. Schianta su Castils. 3-4. Difesa bucata. Difesa bucata completamente. Ben. Calimendo. Prova. Dancici. Pare sul primo palo. Palo. Ben. Sulla destra. Non ha grandi. Grandi forzi. Turam forse sì. Palla buona. Al sinistro. Di Fabian. 4-4. Che partita è? Finisce qui. Alla fine 4-4. Esulta la Nasr. Pardon. Leister un po' meno. Leister un po' meno ma va bene così. Nel senso. Test. Match test. Test match per il nostro Leister. Abbiamo decisamente dovinato. Loro 5 tiri. 4 gol. Però. Vaena passa 3-4. Vediamo. In realtà poco. In realtà fa poco di upgrade. Non lo so. Non lo so. Vediamo. Ma per adesso abbiamo provato a coprirci più o meno in qualche modo con Vaena sulla 3-4. Plata sulla destra e Della Vega sulla sinistra. Così però dovremmo andare veramente a fare qualche acquistino. Almeno un altro 3-4. Almeno un altro esterno sinistro. Sulla fascia destra vediamo. Nel senso che. Potremmo veramente prenderne uno per ruolo. Almeno evitiamo di prenderci tutti i giocatori solo sulla fascia sinistra o solo sulla 3-4. Almeno abbiamo Plata come esterno destro titolare. E ne prendiamo un secondo da Dalli Fiato. Vaena sulla 3-4. Ne prendiamo un altro anche qui da Dalli Fiato. Così Vaena e Plata o il sostituto di Plata potrebbero alternarsi. Della Vega. Titolare attualmente sulla fascia sinistra. Ne prendiamo uno anche qui per far rifiatare Della Vega. Serve assolutamente un terzino sinistro di riserva. Serve assolutamente un difensore titolare. Ma proprio senza dubbio. E serve un terzino destro titolare. Quindi questi sono i ruoli che dovremmo andare a coprire. Al tacco siamo a posto. Centro campo. Attualmente siamo abbastanza a posto. Perché abbiamo Locatelli e a questo punto direi Turam titolari. Fofana come riserva. Come pedina a partita in corso. Magari per difendere un pochettino di più. Per il caso perché è Turam un pochettino più veloce. Mettere sia Locatelli che Fofana entrambi un pochettino più lenti. Non lo so. Trovo di avere il centro campo un po' troppo lento. A ripartire o tornare indietro. Quindi per adesso facciamo così. Serve assolutamente un trequartista. Abbiamo anche Fabian Ruiz come centrocampista. Deuce Buriol come uomo capitano, uomo squadra. E per il resto qualche presito qua e là. Il difensore titolare che punta lei sarebbe Wesley Fofana. Il ritorno di Fofana in quel di Leicester. Sulla fascia sinistra anche qui il ritorno in Leicester di Lukman. Però non lo so. Nel senso che lui 29 anni. 81. Vediamo. Pensiamoci. Potrebbe alternarsi con della Vegasi. Però voglio pensarci meglio. Se avete nomi. Ecco se avete nomi mi raccomando. Qui sotto nei commenti. Sulla trequarti uno tra Suzuki e Rodriguez. Sisto che Mauro Junior è andato all'erata Berlino. Sulla fascia sinistra c'è anche il buon Ake. Potrebbe essere un uomo interessante. Anche Brum Brum. Tanti loro li vogliono in una nostra carriera. Atal se ne è andato al Bilbao. Show purtroppo al Friburgo. Quindi valutiamo. Ragazzi valutiamo. Ci saranno un sacco di giocatori. Un sacco di mercato da fare. Mi raccomando. Tutto nel prossimo episodio. 120 milioni di mercato. 120 milioni di budget. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Qui sono il Leister. Mi raccomando. Alla prossima. Ciao ragazzi. Grazie. Grazie a tutti.